Abbiamo appena visto una squadra che purtroppo lascia la Champions League, ritroviamo invece un Cassavia in piena spirale positiva. Dopo una prima fase, a detta di tutti, anche del Cassavia stesso deludente, in anella una buona seconda fase, un pareggio e due vittorie. Si porta molto probabilmente in vetta al girone della seconda fase e ci porta di nuovo, davanti ai microfoni delle stelle dell'Europa League, Ferrario Denis. Cosa ci dici di questa partita? Ma niente, questa partita abbiamo giocato abbastanza bene rispetto alle partite della prima fase in cui abbiamo avuto un po' di difficoltà, però come dicevo anche l'altra volta, siamo migliorati e stiamo migliorando. Questa partita non è una dimostrazione. Abbiamo fatto gol e quindi già questa è una buona cosa rispetto alle partite precedenti e quindi tutto sommato si può essere contenti di come stiamo procedendo in questa seconda fase. Quindi questa vittoria è merito di un 5-7 contro la Pricels, 3 sono i tuoi gol, sicuramente sei stato fondamentale. Oltre a tutta la squadra, 3 gol fanno effettivamente la differenza. Ma diciamo che sono contento per aver fatto questi tre gol e aver dato la possibilità alla mia squadra di vincere la partita. I miei gol li potevo faremo, li potevo fare qualcun altro, nel senso che mi sono trovato lì al momento giusto. Poi l'importante è che la squadra faccia bene i giri in maniera in cui abbiamo giocato oggi. Allora ringraziamo ancora Ferrario Denis, speriamo di rivederlo qui alla rubrica stelle dell'Europa League e vedremo dove andrà questo Cassavia. Vedremo! Grazie! Grazie a voi!